Pallone per Kutukov, Barreto, non c'è quel gioco, Barreto, poco sotto, vede, 2-0, passano 120 secondi, o poco più, e il Valle è la doppia, vuole l'assist di Kutukov per Paolo Barreto. E si riparte a destra con Andrea Masiello, centrale per Sergio Bernato, Almiron, pallone in profondità, cercare Barreto, posizione regolare, il gol è al vantaggio! 11 minuti del primo tempo, Bari in vantaggio con la seconda rete in questo campionato per Paolo Vitor del Sosa, Barreto, aveva segnato sempre in casa contro l'Atalanta, adesso lanciato ottimamente in profondità, trova la rete dell'1-0. Quinta d'attenzione all'accio per Barreto, pallonetto rete! Il Bari è in vantaggio al San Paolo, con il gol di Barreto! Trattengono il fiato i 50.000 del San Nicola, parte Barreto, e il Bari è di nuovo in vantaggio, con il quarto gol stagionale di Paolo Vitor Barreto! E poi di destra cerca di innescare, ci riesce! Greco, Barreto, Barreto a segno, Barreto Frey non vede nulla pallone che spiove proprio al limite dell'area piccola e il vario in vantaggio con Barreto al sesto centro in campionato schema perfetto da angolo colpo di testa per Barreto che da zero metri non può sbagliare parte Barreto, il pallone in rete il Bari in vantaggio, esplode il San Nicola 59 minuti, Bari 1, Inter 0 parte Barreto, cambia angolo e pallone in rete Bari 2, Inter 0 62 minuti e 50 non c'è una partita, qui si ferma una maggiorina, ancora una classicazione col tacco per dialogare con Barreto la palla poi che filtra Barreto col destro traversa e poi gol Barreto, gol del Bari Bari in vantaggio il Bari in vantaggio con Barreto Barreto contro Sirigu fischia De Marco parte la rincorsa Barreto e rete undicesimo sigillo per Barreto l'ottavo consecutivo ottava giornata in cui Barreto va a segno e il Bari torna avanti 3 a 2 altra palla in verticale poi Alvarez prende il tempo con una volta Ziegler e le cross in mezzo il colpo di testa e gol di Barreto 2 a 1 Bari Barreto, proprio lui si toglie la maglia e il gol che fa esplodere il San Nicola Barreto anticipato da Criscito il pallone recuperato da Castillo lo appoggia per Salvatore Massiello Barreto area di rigore incrocia e sono 3 arriva anche il sigillo di Paolo Vitor Barreto il numero 13 in questo campionato la rete che chiude davvero il match minuto 80 vuole rifarsi buono il lavoro di Barreto di preparazione palla sul destro il tiro e questa volta se li fa Barreto 1 a 0 Bari 18esimo minuto bellissima la combinazione tra Maggiorini e Barreto che si è liberato la V.A a Grazie.